Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Marta, la guardiana slash tecnica di una mattutina polo-indiana e io sono Casimiro Mascott. E oggi siamo le teorie di Five Nights at Freddy's. Fra un po' c'è l'ultimo libro che si chiama The Bourke Closet, in italiano il quarto d'armadio. Ok Casimiro, come potete vedere tutte le tre virgolette quelle di Five Nights at Freddy's. E guardate c'è fonte di freddo in bianco e nero, però ok, ma non deve essere tutto in colori, ok. Sullo spondo guardate c'è una chip, qualcosa di problema in tecnici. Comunque, e questa autrice si chiama Keira Braid Weasley e il creatore è chiamato Scott Codron. Qual è l'artwork che avevo già disegnato? È stato fatto da Lady Fixie. Ah, mi piace questa artista, proprio come se l'ho visto nel libro, però uguale, vabbè, dipende, dipende. Se vuoi, i video mi sono già piaciuto, ok? Ok. Quindi, allora, se i video mi sono piaciuto, mettete un bellissimo like e iscrivetevi sul mio canale, commentate i commenti sotto la descrizione, cliccate il bell' campanellino dopo l'avevo scritto e si vedrà nel prossimo episodio. In guardia! Ciao ragazzi e ragazze, si vedrà nel prossimo episodio. Ci vediamo!